La rivoluzione francese. La rivoluzione francese fu un periodo di sconvolgimento sociale, politico e culturale che ebbe luogo in Francia tra il 1789 e il 1799. La rivoluzione fu guidata da un gruppo di intellettuali e politici che aspiravano a creare una società più giusta e democratica. La rivoluzione francese portò alla caduta della monarchia francese e alla nascita della Repubblica Francese. Cause della rivoluzione francese. Le cause della rivoluzione francese sono complesse e multiformi. Tra le cause più importanti si possono annoverare la crisi economica. La Francia era in una profonda crisi economica a causa della guerra dei Sette Anni, 1756-1763, e della guerra d'indipendenza americana, 1775-1783. La crisi economica aveva portato alla povertà e alla disoccupazione di ampie fasce della popolazione. La crisi politica. La Francia era governata da un sistema di monarchia assoluta, in cui il re aveva il potere assoluto. Questo sistema politico era oppressivo e ingiusto per la maggior parte della popolazione. La diffusione delle idee illuministe, le idee illuministe, che promuovevano la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, stavano guadagnando terreno in Francia. Queste idee ispirarono molti intellettuali e politici a lottare per un cambiamento sociale. Gli eventi della rivoluzione francese. La rivoluzione francese ebbe inizio il 14 luglio 1789, quando una folla di parigini assaltò la Bastiglia, una fortezza simbolo dell'assolutismo. In seguito a questo evento, il re Luigi XVI fu costretto a convocare gli stati generali, un'assemblea rappresentativa di tutti gli strati sociali francesi. Gli stati generali si riunirono nel maggio del 1789 e si divisero in tre ordini, il clero, la nobiltà e il terzo Stato. Il terzo Stato, che rappresentava la maggior parte della popolazione francese, era favorevole a una riforma del sistema politico. Il 26 giugno 1789, il terzo Stato si autoproclamò Assemblea Nazionale Costituente, con il compito di redigere una nuova Costituzione per la Francia. Il re tentò di fermare l'Assemblea, ma fu costretto a cedere. L'Assemblea Nazionale Costituente promulgò una serie di leggi che cambiarono radicalmente la società francese. Tra le leggi più importanti si possono annoverare. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789, che proclamava i diritti naturali e inalienabili di tutti gli esseri umani, tra cui la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. La Costituzione del 1791, che stabiliva una monarchia costituzionale in Francia. La Rivoluzione francese non fu un processo pacifico. I conflitti tra le diverse fazioni politiche portarono a una serie di episodi di violenza, tra cui la decapitazione del re Luigi XVI nel gennaio del 1793. Nel 1793, la Francia fu coinvolta nella guerra contro le potenze europee, che volevano restaurare l'assolutismo. La guerra fu lunga e sanguinosa e contribuì a radicalizzare la rivoluzione. Nel 1799, un colpo di stato guidato da Napoleone Bonaparte pose fine alla rivoluzione francese. Napoleone instaurò un regime autoritario, che però conservò alcuni dei principi della rivoluzione, come la libertà di stampa e la separazione dei poteri. L'impatto della rivoluzione francese La rivoluzione francese ebbe un impatto profondo sulla storia del mondo. La rivoluzione diffuse le idee di libertà, uguaglianza e fraternità, che ispirarono altri movimenti rivoluzionari in Europa e nel mondo. La rivoluzione francese ebbe anche un impatto significativo sulla storia della Francia. La rivoluzione pose fine all'assolutismo e contribuì a creare una società più democratica. I protagonisti della rivoluzione francese Tra i protagonisti della rivoluzione francese si possono annoverare l'Assemblea Nazionale Costituente. L'Assemblea Nazionale Costituente fu guidata da un gruppo di intellettuali e politici, tra cui Mirabeau, Lafayette e Robespierre. Napoleone Bonaparte Napoleone Bonaparte fu un generale che mise fine alla rivoluzione francese e instaurò un regime autoritario. La rivoluzione francese nella cultura La rivoluzione francese è stata un tema centrale nella cultura occidentale. La rivoluzione francese